Arriva dall'Udinese l'ultimo colpo di mercato del Foggia. Si tratta di Marco Ballarini, centrocampista classe 2001, nativo di Gorizia. Ballarini è cresciuto nel settore giovanile della formazione friulana. Lo scorso anno nel Piacenza ha disputato sette gare mettendo a segno due gol. Intanto l'avventura di Federico Gentile è giunta definitivamente al capolinea. Nelle scorse ore infatti il Foggia ha ufficializzato la rescissione consensuale con il calciatore augurandogli le migliori fortune professionali come prassi vuole. In realtà dopo il fattaccio dell'incendio del portone a dicembre dello scorso anno, quando all'interno della casa c'erano anche i figlioletti oltre la moglie, Gentile aveva deciso di non tornare più in Puglia. Troppo spaventato da quell'atto vandalico. Il matrimonio dunque tra l'ex capitano e Foggia era già finito a fine 2020. Adesso però ha anche i crismi dell'ufficialità. Dunque, a parte qualche eccezione, la società di Canonico continua a salutare il passato e a costruire un nuovo volto alla rosa. La San Benedettese sta diventando terra di conquista per le note vicende legate al club ormai fuori dalla Serie C. Anche i satanelli vorrebbero mettere il forcone su qualche ex tesserato della Samb, anche perché ormai sono tutti svincolati. Il nome che circola nelle ultime ore è quello di Davide Di Pasquale, difensore centrale. Sulle sue tracce però ci sarebbe anche il gubbio. Intanto la comitiva rossonera, come noto, è rientrata in Capitanata. All'orizzonte c'è la Coppa Italia di Serie C e il Foggia sfiderà la Paganese di Castaldo. Una gara secca da capitalizzare perché il Foggia vuole mostrare sin da subito unghie e denti.